Diamo un'occhiata al video backstage autunno-inverno per sbirciare all'interno della nuova collezione Pronti? Via! Simonetta propone dei capi curati nei dettagli e divertenti per bambine che non si annoiano mai Grazie a tutti Che dolci! Fermi un attimo! E questa gonna? L'amo! Che esplosione di colori! Quanto sono romantiche queste fantasie floreali Clicca! Flash! Dolcissimi orsetti Che esplosione di colori! Girl in red! Ciao! 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 Grazie a tutti.